Oggi nel Vangelo risuona la dolcissima pagina dell'incontro tra la Maddalena e Gesù. All'alba Maria Maddalena corre al sepolcro per ungere il corpo del Signore. E' amore puro per Lui e ha la gioia di essere la prima a incontrarlo. Perché? Perché lo amava più di tutti, lo amava col cuore. Perché alle donne? Perché le donne sono le portatrici della vita, il grande onore della donna. E l'incontro avviene al sepolcro mentre c'è l'affannosa ricerca e si compie in un momento particolare in cui quando la Maddalena chiede a quell'uomo che crede il giardiniere se ha visto il maestro, il maestro sicuramente nel sorride la chiama Maria. Rabbunì, maestro! Ecco, in quel Maria è maestro c'è tutta la sintesi dell'avventura cristiana, l'incontro dell'uomo con Dio. La nostra preghiera parte da questo deciderio di incontrare il Signore. E non saremo, sapete, perfetti cristiani fino al giorno in cui non ci sentiremo chiamare per nome. da Gesù, il quale ci dice seguimi e noi lo scegliamo come il nostro maestro. Buona Pasqua!